Comunque grazie alla pubblicità del discount mi sono comprata un casolare in campagna Evviva, evviva la pubblicità del discount Michelle, la Mish Allora io penso a Michelle tutte le volte che Come posso dire, mi viene in mente questa ragazza Che dalla Svizzera, questa ragazza extracomunitaria Beh certo, sei extracomunitaria Sei arrivata dalla Svizzera qui in Italia E se dico Svizzera mi vengono in mente due donne straordinarie Michelle Tu e Heidi Una saltella allegramente ridendo senza motivo E l'altra è un cartone animato Però devo anche... no 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 non mi serve, non mi serve, grazie Devo dire anche delle cose positive Michelle perché io grazie a Michelle Ho imparato ad apprezzare la TV La TV in streaming, quella a pagamento dove lei non c'è La adoro, è vero Michelle? Bellissimo La adoro Io ho iniziato a Zelig come te, anche tu hai iniziato a Zelig Michelle ha iniziato a Zelig, ha fatto la gavetta Poi è andata via e Zelig ha fatto il botto Come mai? Chissà come mai? È vero? Ciao